buongiorno a tutti allora 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 innanzitutto la magliettina del gigione della settimana che ormai siamo arrivati già e sia sabato siamo già a sabato la settimana sta finendo e non te ne accorgi nemmeno la magliettina del gigione con la frase della settimana e andiamo con la seconda call news di che cosa parleremo parleremo di sono un robot r obbio di parleremo di robot l'intelligenza artificiale robot poi parleremo di un'attrice che era insieme a un trio milanese ma che adesso non è più del trio sta facendo altro per i fatti suoi e vi racconteremo un po di cosine un po di aneddoti su questa attrice che ha lavorato con un trio poi si torna a parlare di ominidi del tempo passato perché come al solito c'è no l'ho scoperto io l'ominide più antico del mondo e quindi parleremo di quello dopodiché l'ultima notizia riguarda dopo una principessa ci voleva anche un re un re ho visto un re ma non vi dico chi è parleremo di un re un re che è vissuto del diciannovesimo secolo più o meno diciannovesimo secolo e che ahimè anche lui ma un po prima rispetto a carlo è stato un po più fortunato perché è diventato re 15 anni prima che lo diventasse come età come età e non 15 anni prima di perché lì c'era la l'asciura la elisabetta seconda a proposito di elisabetta si chiamano vabbè betta polpetta che è una mia amica però non c'entra nulla con le regine re betta polpetta è una mia amica che conosco sposatissima con figli comunque ragasoli ragasoli iniziamo partiamo 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 notizia sempre dello scorso settembre quindi circa dieci mesi fa non è la prima volta che il robot umanoide a mecca fa parlare di sé era salito alla ribalta della cronaca dicembre quindi con la prima dicembre 2021 quando l'azienda britannica in gane red hearts sua creatrice aveva diffuso un video in cui dimostrava le capacità espressive ora becca si presenta ulteriormente migliorato con 12 nuovi attuatori che gli permettono di assumere espressioni sempre più umane di stupore disgusto e anche di dolore il principale miglioramento che si nuota nel nuovo video diffuso dalle jane red hearts è che amica è ora in grado di utilizzare anche braccia e mani tocca lo schermo muove le dita riesce insomma a muovere la parte inferiore del corpo amica è un'intelligenza artificiale o un robot la risposta viene dalle stesse e in gane red hearts che sul suo sito sottolinea noi costruiamo robot e amica vuole essere una piattaforma nella quale sviluppare l'intelligenza artificiale i robot non sono intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale non ha a che fare solo con i robot nonostante venga definito dai suoi creatori il robot umanoide più avanzato al mondo a me amica almeno per ora ma siamo nel settembre del 2022 ve lo ricordo quindi magari tra poco amica farà anche qualcos'altro e sono in grado di riprodurre le espressioni facciali umane ma non riesce a manifestarle autonomamente questa è una buona notizia per chi teme che robot ci ruberanno il lavoro perché è un umanoide inespressivo difficilmente potrà sostituire una persona se non in compiti ripetitivi e non a contatto con il pubblico amica tra l'altro non sa camminare a detta delle gare redars però questa caratteristica in via di sviluppo e trattandosi di un robot modulare potrà essere aggiunta in seguito insieme ad altre migliorie per ora non ci resta che osservare i ghigni su youtube domandandoci quando i confini tra tecnologia e realtà saranno così sfumati da non vedersi più ecco io vi avevo raccontato di un fumetto diciamo così un racconto a fumetti un raccontino di nuovo che decise gli dissero guarda devi andare su quel pianeta sarai da solo quindi se vuoi poi portarti qualcuno eccetera perché c'è da fare questo lavoro qua su quel pianeta lì basta una persona però logicamente per non farti andare da solo puoi scegliere se portarti una compagna eccetera e vedremo di trovarti la compagna su misura in modo che non sai da solo se vuoi una compagna se no se vuoi altro ce lo dici perché lì devi svolgere questo lavoro per x tempo poi se lì da solo e magari ti annoio che cosa lui fa no vorrei una donna che abbia queste caratteristiche gli hanno appunto questa donna partono assieme lui pensa di avere una donna poi succede un incidente diciamo così e scopre che questa donna non è una donna ma è un robo e quindi a parte a rimanerci malissimo perché comunque la fattezza era di una donna tutta precisa tutto perfetta corpo perfetto stupenda ci faceva l'amore tutto quanto comincia a trattarla non più come una compagna appunto come un robot e poi va bene succede un altro disguido vengono attaccati quello che è quindi loro si difendono lei viene colpita e stavolta non si può più aggiustare quindi lui a parte chiamare che lo vengano a prendere perché sono stati attaccati e tutto quanto crea appunto piccolo cimitero dove la seppellisce eccetera eccetera e si rende conto che invece aveva fatto male a trattarla male perché comunque anche se non robot aveva ma è futuro ragazzi via futuro che potrebbe essere anche entro il 2100 futuro sempre più vicino probabilmente già tra dieci anni certe situazioni potrebbero capitare vedremo vedremo il futuro è un'ipotesi non so se ci sarò ancora quando ci saranno queste situazioni ma i ragazzi che mi seguono ci saranno sicuramente visto che mi dicono che chi mi segue ci ha tra i 16 e 25 anni principalmente poi ci sono anche persone più adulte maia la maggioranza tra grande maggioranza su tutti i ragazzi giovani proseguiamo con la seconda col news e parleremo di un'attrice appunto che insieme al trio inutile girarci intorno senza la presenza di marina massironi forse i primissimi aldo giovanni e giacomo non avrebbero avuto lo stesso successo marina es moglie ma anche fedele amica di giacomo poretti è stata a fianco del trio fin dai primissimi spettacoli del milanese eseguiti di fronte a un pubblico sparuto e messi in scena con mezzi inesistenti e sempre lei li ha accompagnati al successo comparendo di volta in volta come con primaria senza mai limitare lo spirito comico del trio e anzi interagendolo con talento recitativo e presenza scenica fuori dal comune marina infatti è capacissima anche come cantante oltre che come comica e attrice spesso le maschere che metteva in scena non avevano nulla da invidiare a quelle dei suoi compagni marina è comparsa sia nei corti 1995 scusate anche il bronco di riacea si esalta che intel kiel telun del 1999 i due storici e più classici spettacoli teatrali del trio con loro e poi apparsa in tantissimi sketch a mai dire gol nel corso degli anni 90 per esempio commentando le esibizioni dei mimi o cantando in scenette improbabili e parodistiche sempre lei poi è diventata protagonista femminile privilegiata dei primi tre film del gruppo comico tre uomini e una gamba nel 97 così è la vita del 1998 e chiedimi se sono felice del 2000 dei tre film marina interpreta di volta in volta a turno l'interesse amoroso di uno solo dei tre protagonisti rispettivamente tocca a giacomo aldo e giovanni ed è però dopo questa serie di film e il loro successo che la massironi sceglie di allontanarsi dal trio e nel farlo lascia al posto un po come un passaggio di testimone a silvana fallisi moglie di aldo una separazione spesso pianta da pianta nel senso che il gando pianta a piangere non pianta pianta dai fan e dietro la quale per anni si è sospettato un misterioso litigio tra marina e il trio in realtà pare che non sia accaduto niente del genere semplicemente la massironi forse volenterosa di emancipare il proprio nome da quello del trio ha deciso progressivamente di dedicarsi a vari progetti da sola tra questi tanti film tra i quali pane e tulipani di silvio soldini del 2000 per il quale ha anche vinto sia il manastro d'argento che il david di donatello come miglior attrice non protagonista negli anni successivi si è molto dedicata al teatro attività portata avanti anche molto di recente con lo spettacolo il marito invisibile portati in scena insieme a maria amelia monti negli anni ha collaborato sul palco con daniele lucchetti cristina comencini e anche dario fo comparendo inoltre in una messa in scena del famoso musical americano bulli e pupa guys and dolls del 2002 molti inoltre forse non sanno che marina è stata molto attiva come doppiatrice fin dagli anni 80 e anche questa sua attività prosegue tuttora ha per esempio partecipato al film pixar dal titolo luca sia come voce originale che della versione italiana ed è stata anche la doppiatrice originale di daria nell'omonima serie di mtv la sua attività insomma prosegue i moltissimi sperano un giorno di vederla riunita allo storico trio e non è impossibile che accada dato che ufficialmente i quattro non si sono mai separati di fatto ma la sua paura non potrà mai essere rimarcata abbastanza anche a prescindere dal suo lavoro con aldo giovanni e giacomo bene ragazzoli penso che sarete d'accordo su quello che hanno scritto sulla marina massironi questo è un è un articolo che ho trovato sul web ogni tanto trovo qualcosa mentre invece per quanto riguarda gli umanoidi eccetera ringraziamo un focus scienze notizie perché è uno dei due che me l'ha pubblicato per non fare torta nessuno li nomino tutte e due ma proseguiamo con le notizioni queste di focus e siamo alle solite ragazze ogni due per tre devono dire abbiamo trovato il primo minide che camminava a due piedi un nuovo studio pubblicato su the show apre un dibattito sui resti di quello che sembra sembrerebbe essere l'ominide più antico mai ritrovato il fossile del femore della discordia trovato in chad nel 2004 è stato ora riesaminato da un team di ricercatori che sostiene sia appartenuto ad un esemplare di sa e la sa e la sa e l'antropus chadensis chadensis io li picchio quando scrivo chiamarli con un nome normale no devono scrivere in latino che uno non ci capisce la beata giovanna deve fare gli scioglilingua per leggere ste cose madonna benedetta ci vorrebbe l'albertone sordi che faceva i provini per entrare a a fare il telegiornale coi dentoni e non lo potevano ma purtroppo era bravissimo era presparratissimo e se che stiamo su questo esemplare qua di s st lo chiamo st che non sta per s punto t punto ecco vissuto ben sette milioni di anni fa che camminava su due piedi non abbiamo prove inconfutabili che confermino il bipedismo del sa e l'antropus sottolinea daniel liberman palo paleo antropologo all'università di harvard tuttavia gli indizi fanno pensare più ad esemplare bipede che a un quadrupede la storia del fossile lunga nel 2001 team franco chadiano scopre il cranio di esemplare di silent propus eccetera eccetera battezzato tomai speranza di vita in una delle lingue del chad nonostante il cervello piccolo e simile a quello di uno scimpanse tomai ha delle caratteristiche tipiche degli ominini ominini do robini di ominini come alcuni dettagli dei denti e del volto nel 2004 la scoperta del femore che però nessuno si preoccupa di studiare a fondo per oltre 15 anni nel 2020 finalmente viene pubblicata una breve descrizione del fossile ma l'analisi preliminare conclude che i resti probabilmente non appartenevano a una specie bipede ora il nuovo team ribalta l'opinione dei colleghi sostenendo l'esistenza di oltre una dozzina di caratteristiche che suggeriscono che il silent propus fosse un ominide bipede tra le prove adotte vi è la presenza di una cresta ossea a supporto del femore durante la camminata secondo uno studio di quest'anno però questa caratteristica non sarebbe tipica dei bipedi ma sarebbe presente anche in alcuni primati come gli orangotangi e a volte assente negli umani un altro tratto segnalato come indicativo di bipedismo ovvero la torsione della diafisi la parte centrale del femore potrebbe in realtà essere frutto della compressione esercitata dai sedimenti in milioni di anni secondo roberto macchiarelli primo autore dello studio del 2020 che aveva escluso che tomai camminasse su due piedi gli autori hanno selezionato le prove a sostegno della tesi del bipedismo ignorandone altre che evidenzia vanno il contrario d'altro canto anche frank guy coordinatore della nuova ricerca sostiene che il bipedismo del silent propus è confermato dalla presenza di diverse caratteristiche più comune agli umini bipedi che ai primati quadrupedi in assenza di prove certe il debattito ancora aperto ragazzi miei di certezze non ne possono avere inutile che continuano qua e la e su e giù ringraziamo comunque focus per questo bel di battitone camminava due piedi camminava quattro piedi no perché la caratteristica questa qua mi dice così no ma però c'è quell'altra caratteristica non c'eravamo finché non creano la macchina del tempo e non arriva il dottor di ritorno al futuro che riesce a inventare la dell'orea che va a 88 miglia all'ora andando 88 miglia non riesce ad andare avanti e indietro nel futuro o nel passato non lo potremo mai sapere poi ve l'ho già detto se dovessero inventare una macchina del tempo e la cui finisce nelle mani sbagliate cambiano il corso della storia fanno vincere a napoleone la battaglia di waterloo perché ricordiamoci che sembra napoleone avesse avuto un walkie talkie e poteva sentire le varie truppe che aveva premente quella battaglia l'avrebbe vinta non l'avrebbe persa e quando arrivavano le truppe prussiane magari lui aveva già sgominato la fanteria inglese quella che c'era ed era già pronta ad accogliere anche le truppe austriache e prussiane che fossero invece non lo sapeva e l'hanno preso in quel posto e forse non avrebbe mandato la calavalleria allo sbando contro le difese munite inglesi che le hanno seccate vabbè l'uguale casser non avrebbe magari attaccato come un pazzo il il cosi indiano l'idon all'accampamento indiano che c'era lì più di 2500 e loro erano in 300 e l'han preso nel pulipù perché ha voluto fare il figo vado io l'attacco così mi prendo la gloria non aspetto gli altri e l'han preso nel pulipù eccetera 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 magari uno avrebbe informato hitler che era meglio se andava avanti con le cose e quindi magari del 43 avrebbe già avuto la bomba atomica e le ai e gli aerei a reazione e magari avrebbe vinto lui la guerra perché avendo gli aerei a reazione e c'è gli avuti quando ormai la guerra era finita e ciao v1 v2 comet 260 il consiglio commento 262 se non ricordo male e anche c'era anche un altro eccetera 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 poi magari si poteva andare alla guerra di troia portargli il libro che del cavallo c'erano i soldati poi cambiare l'esito della storia quindi è meglio che non la inventino perché non si sa mai cosa potrebbe succedere perché se cambi il passato in automatico cambia anche il futuro siamo attenti vabbè tanto quando sarà il momento io non ci sarò più saranno affari vostri passiamo a parlare di un re ragazzi re edoardo settimo attese moltissimo tempo per salire al trono figlio della regina vittoria divenne sovrano a 60 anni e il suo regno durò soltanto dieci anni durante il quale però ci furono una serie di innovazioni rilevanti nel campo della tecnologia e in generale a una spinta al cambiamento che non si vedeva da molti decenni probabilmente dall'inizio della rivoluzione industriale ma il futuro edoardo settimo ai suoi tempi era celebre per le sue avventure d'amore a pari piripi 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 durante le escursioni oltremanica edoardo era solito recarsi in alcune case di piacere qui fu costruita una sedia dell'amore specificatamente pensata per le esigenze del futuro sovrano una di queste segne fu realizzata su misura dall'emminente banista louis sobriè nel 1890 e fu consegnata alla casa di piacere parigina le chabanè per esclusivo uso personale del sovrano britannico la forma dell'oggetto permetteva al famigerato principe playboy di divertirsi in molti modi anche con due donne allo stesso tempo le case di tolleranza furono legalizzate in francia nel 1802 ma fu soltanto nel 1878 che ne fu aperta una di altissimo livello le chabanè appunto nel centro di pari la struttura era rinomata per la sua stravaganza eclettica e nel corso degli anni ha visto ospiti illustri non necessariamente clienti e come al free bogart ma e west carrie grant e appunto il futuro re edoardo settimo le camere da letto erano decorate con stili esotici in modo sontuoso e fra questi si ricordano la camera turca la sala di pompeii la sala giapponese quelle in due quest'ultima la preferita di da berti come veniva chiamato albert edward in famiglia la sedia originale utilizzata dal principe ora di proprietà del pronipote del costruttore originale del diciannovesimo secolo mentre vi sono anche altre tre riproduzioni che sono sparpagliate dei vari musei del mondo eccetera o ce li ha in mano qualche riccone non sono stato a indagare per intenderci anche qui per questa notiziuola qua sul re edoardo ringraziamo così sempre o scienze notizie focus ma penso sia di scienze notizie rega soli concludiamo qua la notatona del gigione adesso vedo di fare l'operazione recuperiamo un po di notizie da inserire comincio a metterle e poi dopo le dovrò scegliere stasera vedo di inserirne di nuove e poi prima o poi cercherò di sceglierle comunque tanto con news sono pieni siamo solo a settembre del 2022 ce ne ho già anche fino a giugno luglio di quest'anno perché sono già inserite ma le vedremo più avanti perché vado per settembre ottobre novembre dicembre ci sono notizie tutti i mesi del passato e naturalmente quelle nuove le dividerò tra notizie che diventeranno con news e notizie che diventeranno news che faremo a breve a breve naturalmente sabato ci sono le partite delle pulselle quindi stamattina giocano le pulselle le primi due ottavi di finale quindi questa sera nella notte quindi li vedrete domenica mattina parleremo delle gare delle pulselle parleremo di moto gp perché c'è una gara di moto gp quindi vi antici però come sempre per prima cosa della notte tra sabato e domenica le prove libere e le qualifiche poi spero in settimana di riuscire a meno a fare la moto gp so benissimo che vi devo raccontare del gran premio d'ungaria dell'ultimo gran premio che c'è stato di formula 1 ma ragazzi il tempo è quello che se riesco ve lo farò ma finché torno tardissimo con orari improponibili diventa non facile quasi impossibile vi informo che in questo momento sono le sei del mattino non dico altro ci vediamo alla prossima ciao